Sequestrati 120 kg di fuochi pirotecnici in un negozio di Capaccio Pessum, i botti, detenuti senza licenza, erano situati in un vano retrostante dell'esercizio commerciale. Il titolare, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla magistratura. Il materiale esplodente è stato affidato ad una ditta specializzata di Salerno, che su disposizione della procura dovrà farlo brillare. A scoprire il tutto, gli agenti della squadra volanti del commissariato di Battipaglia, diretto dal vicequestore Lorena Cicciotti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato all'interno del vano l'ingente quantitativo di botti.